La Serie A è giunta la sesta giornata di campionato con una sola squadra in vetta, che è l'Atalanta, prima a 13 punti e ancora in battuta come Napoli e Minan, firme a 11 e via via tutte le altre. Più della classifica è il Monza, ancora a 0 punti, con Cremonese, Sampdoria, Lecce, Bologna ed Empoli, che sono le uniche squadre a non avere ancora vinto. Nell'ultima giornata abbiamo assistito veramente ad un sabato ricco di gol, a partire dall'Ulamo del Franchi tra Fiorentina e Juventus, con un super per in che ha salvato i bianconi dalla disfatta, alla bella vittoria del Minan per 3-2 nel derby contro l'Inter e al successo del Napoli per 1-2 contro la Lazio. Domenica c'è stata la netta sconfitta della Roma per 4-0 ad Udine, mentre lunedì Atalanta e Torino si sono imposte su Monza e Lecce, vincendo le loro gare senza subire gol. In questo fine settimana ci aspettano altri incontri molto interessanti, che andrò ad esaminare in questo video, fornendoti un piano di gioco dedicato all'equato, al raddoppio e alla strategia dell'investimento di interesse composto. Ciao e benvenuto o bentornato qui sul mio canale, se ancora non mi conosci mi chiamo Luigi, sono un financial betting advisor e qui su YouTube parlo di calcio, scommesse sportive e delle migliori strategie di investimento da applicare nel settore del betting online. E se sei curioso di sapere come investirò da oggi in avanti sul nostro campionato nazionale, il mio consiglio è quello di non perderti assolutamente questo video, diviso appunto in due parti, nella prima andrò ad esaminare tutte le 10 gare del fine settimana e nella seconda andrò a consigliarti appunto la mia tecnica di money management. Il tutto dopo la nostra intro. Allora, prima parte di video dedicata all'analisi di questo sesto turno di campionato, sesto turno che partirà sabato con Napoli-Spezia, Inter-Torino e Sampdoria-Milan, domenica altre sei gare con l'importante Juventus del Ritano alle 20.45 e lunedì abbiamo solamente Empoli-Roma sempre alle 20.45. Per quanto riguarda le gare di sabato mi aspetto tre successi delle tre squadre favorite, ovvero Napoli, Inter e Milano. In Napoli deve dare continuità dopo l'1-2 dell'Olimpio contro la Lazio, quindi penso che potrà farlo contro uno Spezia che in trasferta veramente lascia un po' a desiderare. Lo Spezia che ha affrontato già due big in trasferta, entrambe le partite perdenti, abbiamo il 3-0 contro l'Inter e il 2-0 contro la Juventus, quindi penso che per me Napoli parta dal 2-0 con la combo 1 più Multicol 2-5 che la troviamo a 1.55-1.60, dipende dal bookmaker sul quale uno sceglie di giocare. Per quanto riguarda Inter-Torino, la stessa cosa, il Torino può far male, il Torino veramente gioca molto bene e l'Inter che viene comunque dall'incontro contro il Bayern Monaco, poi ci si aspetta anche un'altra giornata di Champions mercoledì prossimo, martedì prossimo, quindi penso che comunque l'Inter potrà vincere l'incontro. La quota è salita a 1.40, è la partita veramente a 1.30-1.35, il Toro gioca bene, quindi mi aspetto comunque l'Inter che possa fare sulla gala, possa vincerla, anche perché se non dovesse farlo la distanza dalla vetta si allungherebbe ancora di più, quindi anche qui mi aspetto comunque gol, spettacolo e quindi combo 1 più Multicol 2-5, anche qui arriva la quota a 1.60. Per quanto riguarda Sampdoria Milan, mi andrò a prendere solamente il segno 2 base a 1.50 che veramente ci sta, anche se la Samp comunque in casa cercherà di fare risultato, il Milan ha fatto due trasferte contro l'Atalanta a Bergamo e a Reggio Emilia contro il Sassuolo, due pareggi, quindi se il Milan vuole tornare a vincere lo scudetto queste gare in trasferta le deve vincere, il 2 a 1.50 me lo vado a prendere diciamo molto volentieri. Per quanto riguarda le gare di domenica abbiamo il lunch match ad Alanta-Cremonese con l'1 a 1.33, quota giustissima con la Cremonese che ha fatto il suo primo punto in Serie A nella gare di domenica scorsa appunto contro il Sassuolo, un pareggio per 0 a 0, quindi penso che la Cremonese non potrà fare risultato a Bergamo, l'Atalanta che potrà vincere magari dal 2 a 0 in poi, quindi anche qui andrò a seguire la combo 1 più Multicol 2-5 che troviamo appunto a quota 1.60. Per quanto riguarda le gare delle 15 abbiamo Bologna-Fiorentina, Lecce-Monza e Sassuolo-Dinese. Bologna-Fiorentina non mi sento di consigliarti niente perché è una gara molto equilibrata come potrete le quote, la Fiorentina è vero che viene dalla gara di Conference League di giovedì, poi c'è il Bologna comunque è sempre un campaccio, quindi penso che comunque il Bologna voglia fare risultato e quindi è una gara molto incerta, molto difficile da analizzare e da effettuare, da trovare un pronostico. Quindi passo direttamente a Lecce-Monza con un Monza che renda 0 punti, veramente in crisi nera, il Lecce potrà fare risultato, potrà fare punti per smuovere la classifica, questo è un match comunque da dentro o fuori, un match salvezza, quindi per me il Lecce sfruttereà il fattore campo, il mio da prendere la doppia chance 1x e andrò ad abbinarci anche l'Under 4,5. Visto che per me ci saranno pochi gol, con la gara che potrebbe anche finire 1-1, un punto per 1 e con il gol comunque 1,68, però 1x più Under 4,5 la troviamo a 1,48, 1,50. Per quanto invece riguarda Tassuolo Udinese, anche qui l'Udinese è venuto a 4-0 contro la Roma, ha giocato una buona gara anche se la Roma ha regalato almeno due gol ai friuliani, quindi penso che comunque l'Udinese va su un campo difficile come quello di Reggio Emilia contro un Tassuolo che sarà ancora senza abberardi ma che vorrà comunque esprimere il suo gioco in casa. Una gara molto equilibrata con l'Udinese offerta a 2,55, favorita contro il Tassuolo, anche qui è un match che per me è da evitare, quindi mi concentrerò solamente su Lecce e Monza per l'unica gara dell'ore 15. Passando alle gare a dire 18 abbiamo Lazio e la Sverona, la Lazio che vorrà rifarsi dal KO contro il Napoli, la Sverona che viene dalla vittoria per 2-1 contro la Samp, quindi penso che comunque la Lazio possa portare a casa i 3 punti, l'1 a 1,60 per me è veramente una buona quota che me la vado a prendere. Poi abbiamo Juventus Saleritana, Juventus che in casa segna poco, comunque in generale segna poco, una squadra da pochi gol, una squadra che per me è una partita che verrà sbloccata nel primo tempo e verrà gestita nella ripresa, cercando poi comunque di limitare l'energia e le forze, visto che poi mercoledì ci sarà Juventus ben figa, gara molto importante per quanto riguarda la qualificazione alla Champions League, quindi penso che la Juventus non potrà perdere questo incontro, anche perché poi comunque la classifica parla chiaro, i punti di distacco inizierebbero ad essere tanti dalla vetta, quindi penso che l'1 a 1,40 è buono, l'1 abbinato all'under 4,5 la quota arriva a 1,60, quindi è una combo che per me ci può stare, magari mi aspetto il classico 2-0, magari anche un 2-1 con un gol della Sareritana, e comunque rimane sempre un successo della Juventus con meno di 5 gol all'attivo. Per quanto riguarda Empoli-Roma, la Roma ha un'altra trasferta comunque insidiosa sul campo dell'Empoli, l'Empoli che non è come quello dell'anno scorso, la Roma vinse 4-2 in trasferta l'anno scorso e penso che potrà ripetersi anche quest'anno, la Roma che comunque viene dalla trasferta contenuto Goretz in Europa League, quindi penso che comunque voglia limitare le forze, voglia vincere comunque la gara con il 2 che troviamo a 1,60. Fatta questa carellata, praticamente parliamo di quota raddoppio, per quanto riguarda la giornata di sabato, ho selezionato praticamente gli contri di Inter e Milan, per l'Inter ho pronosticato un multi-call 2-5 che alla quota arrivano i 28, per quanto riguarda invece, stando ora a Milan mi vado a prendere la doppia chance X2-Under 3,5, perché un conto è giocarsi il 2 in singola, ma un conto in accoppiata per il raddoppio basarsi anche, coprirsi anche con un pareggio, che magari ci potrebbe stare anche 1-1 come contro Lazio, come è successo tra Stam e Lazio due giornate fa, e quindi mi voglio tutelare con questa combo che arriva a 1,60-1,65 per un raddoppio comunque che per me non è veramente, non è utopia. Quindi passando al secondo raddoppio di domenica abbiamo i segni di Atalanta cremonese, mi andrò a prendere l'1-1,33 e Juventus-Sararitana l'1-4,5 che arriva a 1,60. 1-1,60 e 1-1,33 formo una quadra a doppio che io andrò a seguire appunto per quanto riguarda la mia strategia di gioco. Strategia di gioco che vado a svelartela in questa seconda parte di video. Seconda parte di video ti dica dal mio nuovo metodo di money management per quanto riguarda la Serie A. Allora facciamo il punto della situazione e arrivate alla quinta giornata di investimento. Quinta giornata che si è conclusa con un passivo di 77,76€, visto che puntavo 142,64€, i pronostici sono stati 7,3 vincenti e 4 perdenti per un bilancio generale totale arrivato a meno di 129,77€. Per quanto riguarda l'ultima giornata del fine settimana gli unici comunque pronostici vincenti sono stati 3, abbiamo l'handicap X di Elas Verona contro Sampdoria e Torino-Lecce con le gare che si sono terminate 2-1 e 1-0 e il multi-goal 1-3 squadra a casa di Lazio-Napoli con Lazio comunque ha perso 1-2 però comunque ha fatto un gol. Quindi per quanto riguarda i miei nuovi investimenti per quanto concerne appunto la nostra Serie A andrò a fare, andrò a seguire due tecniche, una un po' più aggressiva e una un po' più diciamo limitante, un po' più conservatrice. Nel senso che nella prima andrò a piazzare i miei raddoppi, quindi andrò a giocare una puntata a base di 10€ sul primo raddoppio, quindi Inter-Torino-Multicall 2-5 e Sampdoria-Milan X2-3,5 puntandoci 10€. Aspettando comunque l'esito del primo raddoppio andrò a puntare o 20€ per recuperare se l'esito è perdente o a ricominciare a puntare 10€ se il primo esito è vincente. Quindi con questa strategia di gioco andrò a seguire i raddoppi per comunque cercare di limitare i danni e le perdite che ho ottenuto fino adesso. Quindi ho ottenuto oltre 120€ di perdita e spero che in poco tempo di recuperare appunto la situazione con i vari raddoppi che andrò a consigliarti appunto in ogni video. Per quanto riguarda invece la strategia legata all'interesse composto andrò a seguire tutti i vari movimenti che hai trovato nella prima parte di video, andrò a seguirle uno per uno per comunque generare un rendimento del 2,69% seguendo 6 pronostici alla volta e centrandone solamente 2. Quindi cosa significa? Significa che io partirò con 100€ di base e inizierò puntando 4€ sulla combo Napoli-Spezia 1 più Multicall 2-5. Andrò a prendere i primi 6 movimenti, quindi da Napoli-Spezia fino a Lazio e Las Verona mi andrò a seguire questi 6 pronostici. Se dovessi riuscire a vincere nei 2 sui 6 andrò a generare un profitto del 2,69% sui 100€ di budget di base. Questo cosa mi porterà a fare un domani? Molto semplice, vi faccio vedere questo file appunto che riepiloga la mia tabella con la strategia di interesse composto. Partendo da 100€ di base con un tasso del 2,69% andrò a generare appunto un profitto di 102,69€ che andrò a rigiocare di mia volta sui prossimi 6 movimenti, quindi i restanti 2 di questa giornata di questo video più gli altri 4 del prossimo video che troverai sempre qui sul mio canale YouTube. Quindi praticamente andrò a generare un interesse composto sulla puntata base più le vincite ottenute in precedenza. Quindi andrò a puntare 102,69€ per vincere nei 105,45€ e via via sempre aumentando le puntate e quindi aumentando di conseguenza anche il rendimento. Questo per aumentare, per giocare senza troppi rischi, visto che comunque se vedi anche i miei video precedenti che almeno su tutti i pronostici che ho fornito nella prima parte, almeno 2 su 6 di media sono stati vincenti, questo piano piano mi porterà ad incrementare sempre il mio budget di base iniziale per far arrivare a delle cifre veramente molto interessanti come puoi vedere fino a centinaia e a migliaia di euro. Senza comunque correre grandi rischi e limitando appunto le puntate seguendole sempre appunto sul mio gruppo Telegram con il link che troverai qui sotto in descrizione. Quindi il mio obiettivo è quello di cercare di movimentare il più possibile i miei fondi a disposizione che come detto all'inizio della mia strategia di investimento sono di 2.000€ quindi una parte le andrò a destinare ai miei raddoppi e una seconda parte al mio interesse diciamo speculativo con l'interesse composto. Quindi praticamente andrò a seguire 6 investimenti alla volta, 6 pronostici alla volta per andare a cercare di ottenere un 2 su 6. Quindi tutte le mie puntate, la prima di 4 euro appunto sull'incontro del Napoli li troverai sul mio canale Telegram con i post comunque come questo che stai vedendo adesso dove vi fornirò appunto per la partita tutta la cassa che ho messo a disposizione, la percentuale, la puntata da conseguire per seguire al meglio sempre questa mia strategia di money management. Ed anche per questo video è davvero tutto, spero di essere stato chiaro nella spiegazione del mio nuovo money management questa è una tecnica che va portata avanti con costanza seguendo tutte le varie puntate che andrò a consigliarti di persona ma che sicuramente alla lunga darà dei risultati molto importanti. Per seguire questa tecnica al meglio ti consiglio di iscriverti al mio gruppo Telegram con il link che ti lascio qui sotto in descrizione dove troverai ogni giorno le varie puntate che io andrò a effettuare sui migliori bookmaker per portare avanti appunto questa innovativa strategia di money management. L'appuntamento con il prossimo video della serie sarà per mercoledì prossimo, ovvero mercoledì 14 settembre dove andrò ad esaminare l'ultimo turno di campionato del mese di settembre. Se questo video ti è stato utile lascia un bel like per supportare il mio canale iscriviti al canale appunto se ancora non l'hai fatto e fammi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensi dei pronostici che ti ho fornito in questo video. Grazie del tuo tempo e noi ci vediamo nel prossimo video. Grazie a tutti.